Il gioco è finito ragazzo, è ora di passare alla fase finale! Addio, comoda! Sai, Link, non è peccato combattere quando la causa è giusta. Dai libero sfogo alla rabbia che hai dentro di te. Scatenati! Molto bene, sei sulla strada giusta. Un ultimo sforzo, dai! Cosa?! Non è possibile! Non è possibile! Ma che cosa succede?! Non è possibile! Ma che cosa succede?! No! Non può essere! No! Non può essere! Sì! Adesso farai i conti con me! E ti assicuro che pagherai per tutto il male che hai fatto! A noi due! Non è possibile! Grazie.